Il sindaco Russello da più di un anno e mezzo da quando ha scelto di abbandonare i partiti ed ancora adesso non è più politicamente individuabile vicino alle posizioni dell'onorevole Nino Bosco. A dirlo è lo stesso deputato regionale del PDL durante la trasmissione incontri in onda ieri sera e questo pomeriggio. Finisce ufficialmente così il matrimonio tra il primo cittadino favarese e la forza politica guidata dall'onorevole Nino Bosco. E dichiarimenti nel corso della trasmissione ce ne sono diversi. Un'ampia discussione viene fatta anche sulla questione mancanza in giunta della quota rosa e sul manifesto fatto affiggere dal gruppo politico di Bosco. Durante la puntata visibile 24 ore su 24 nella sezione incontri del nostro portale www.siciliatv.org si parla del piano per il recupero del centro storico favarese che lo stesso deputato ha presentato alla regione della vicenda giudiziaria che ha investito il governatore della Sicilia Lombardo e ovviamente della questione politica locale favarese. Bosco spiega inoltre i motivi per i quali ha deciso che il suo partito non entrasse a far parte della nuova giunta comunale. Per sentire cosa l'onorevole Bosco ha risposto alle domande poste da Salvatore Sorce vi suggeriamo di vedere l'intervista in onda questo pomeriggio ed ancora in replica nel corso della nostra programmazione.